bella a tutti ragazzi eccoci noi qui con un fantastico appuntamento stavolta sono qui con The Higer Lower Game un giochino molto simpatico e divertente che ho visto anche fatto da altri youtuber dove praticamente devi indovinare chi è stato cercato di più nell'ultimo mese su google ad esempio tra amazon e un cane boh non lo so io sul cellulare non so se si vede sono arrivato a 23 top score quindi sicuramente qualcuno avrà fatto di più non lo so boh magari ditemelo anche nei commenti fino a dove siete arrivati adesso magari proveremo a battere quindi il punteggio massimo che ho raggiunto che quindi è 23 o almeno eguagliarlo come minimo cioè che cacchi diamine almeno eguagliarlo partiamo subito così che cacchio è immagino sia un telefilm e bart simpson ok penso sinceramente più bart simpson no ok parto subito così eeeh michael 5 figure di merda a volontà isis e high fever ma che cacchio ne so isis culo mamma mia è tutta la vita the dirt man ma non penso proprio che raggiunga i 6 milioni infatti fa cacare questo penso sia un film xbox one sicuramente qualche milione dai che cazzo infatti siamo a 3 vai megan fox questa è dura tra megan fox e xbox one però mi sembra che forse l'avevo già vista e forse la tv 2 3 milioni quindi un po' di meno yes che culo andrei dei giganti no questo no impossibile che cercato come megan fox con tutto rispetto per il gigante bobby charton e andrei dei giganti ok questa è una bella sfida perchè secondo bobby charton si si mi butto non lo so dico si si non se lo caga nessuno infatti ma chi cazzo è bobby charton dirigente sportivo allenatore ex calciatore si infatti dicevi ok è l'unione europea e quentin tarantino oddio cioè sarebbe pazzesco se quentin tarantino fosse più cercato dell'unione europea uguale lol trisomme e quentin tarantino oddio non lo so perchè cose assurde mettono questa è la cosa divertente ti so già come penso che la gente è malata no però no si no si no che culo vai epic rap battle ma bu mettono infatti chi cazzo se le cerca le rap battle petran che cosa cavolo sei una città ok teenager incinte ok mi sono buttato lì cioè che cazzo ne devo sapere cose troppo difficili allora un hipster addirittura li stavo cercando un milione di volte contro il new york mix ma non penso il new york mix ok piano piano viene cercato molte volte si in mezzo un po' chi sente la musica un po' chi magari la fa christian di orro ok christian di orro neanche se lo caga nessuno boots boots 4 milioni minchi farmacia così free bets ma non penso che raggiungi 4 milioni dai e infatti c'è free bets è libero e scommesso ok nelli il cantante sicuramente qualche meno un milione meno uno povero allora salvador pura inserita che nessuno dai prima vecchio cosa c'entra siamo a 7 top score e vinci gun stadium comunque scusate sono un po' scombinato e tra l'altro ragazzi se indovino dovete lasciare assolutamente mi piace lower yes tolci oh questa è dura michael jackson contro il michigan stadio sono ironico dai michael jackson tutta la vita tra l'altro non va ok tutta la vita ragazzi come fa ecco angeli angeli ma angeli non minchia sono uguali angeli angeli è cercata come michael jackson wow hong kong è tosta perché mi ricordo che mi era uscito ieri eppure arrivava 1-2 milioni quindi però 3 addirittura e passa ok 1 milione va bene va bene rose bowl ma che cacchio è questo stadio ma è uno stadio è enorme tubo all'americano può contenere 92.542 spettatori porca zozza cola raga mamma mira cosa è pazzesca l'oroscopo è cercato è che ci sono ancora troppi fanatici che ci credo gangnam style ma 7 milioni gangnam style 7 milioni no yes oh siamo a 14 abbiamo sperato anche i 10 da un'ora l'inoplastica dai che cazzo ecco 90 mila stron BNP cioè la banca sarebbe qualcuno in più dai quasi 2 milioni American Express io dico un po' di meno no no 16 questo è un momento da musica triste ragazzi eh vabbè siamo arrivati a 16 ragazzi siamo pronti a ripartire che cazzo American Express ti odio mi aspettavo qualcosina in meno Johnny Cash contro il ceglio o il ceglio stravince no shit cioè le figure di merda così in partenza allora schizofrenia contro George Floreman a quanto pare siete tutti un po' schizofrenice ok i micci hanno ormai lo sappiamo non se lo caga nessuno non si stia a metterci il Cristo il Redentore Redemio minchia per poco vabbè Vodafone dai Vodafone uuuuh 13 milioni la Vodafone per pacco Sergio Aguero no ti rispetto no ti manca mezzo milione se è per questo ok uova di cioccolato contro Sergio Aguero perché si attiva la cerca vocale e mi cerca la cioccolata Sergio Aguero la cosa ok non pens uova di cioccolato dentista contro tizio di bianco dentista tizio di bianco dentista tizio di bianco brizzolato jetly die jetly die cazzo c'è Budvar oddio che virgolato ah Budweiser vabbè vabbè 8 mila scrillex oh scrillectiamoli ok mamma mia come sei brutto comunque basta ricerche vocali basta antidepressivi o scrillex ok aspetta antidepressanti antidepressanti gerusalemme questo è a trabocchetto secondo me mamma mia non parto sto gioco antisemitismo contro gerusalemme dai antisemitismo uno deve cercare pure 135 mila persone si sono messe là a cercare antidepressanti ah stavolta non mi fotti stavolta ecco non cambiare ok siamo otto ragazzi siamo otto chicago camps no dai uguale madonna mia pillole per la dieta no dai no ok tutti obesi tutti grassi gli americani stanno diventando tutti obesi stanley kubrick ok siamo a 11 raga 11 top score high score 16 ok cerchiamo di battere stanley kubrick o pink floyd oddio mio io punto sui pink floyd eeeh grande ma che catticcia ma va a cagare si ma poi perchè pasturisce il robot quello mi chiedo io perchè pasturisce il robot quasi assurde mettono in questo gioco ok siamo a 13 vabbè in new york tutta la vita dai e dai 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 davide golia no dai bbc di più vai ok siamo di nuovo a 16 bbc 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 16 milioni e pass contro lungheiser tobacco smoke deadly human lower ok si va avanti tennis no mi deludere tennis si vai siamo a 18 già abbiamo superato no perchè accendendo accendendo cacchio perchè poi ci sono marche c'è marche cercatissime milioni e marche che non se ne caga nessuno accendendo tra quelle cercatissime tra quelle che non si fila nessuno mamma mia 16 milioni fai così accendendo chris evans non penso tutta la 16 milioni infatti ok siamo a 20 siamo a 20 il mio record è 23 ciao possiamo fare super bull contro chris evans ma vaffanculo 20 miglior score che cazzo in the top 10 il cacchio adolf Hitler è ancora cercatissimo non so perchè un milione di persone hanno tentato a cercare adolf Hitler vai divertiamo stavolta sfastreadissimo vai io ho tre uguale Janet Jackson ha cercato quanto il sistema solare British Airways mamma mia 5 milioni ok Newest no sto per sbagliare mamma mia sto per sbagliare proprio che poi non è capitato di sbagliare così prego sì l'Australian Open dai non può essere cercato più uguale uguale mamma mia stiamo andando a mazzorotto quasi Santorini ok Thomas Edison sì è così volley ball sì sì basket ball sì vai part fiction no dai uff Anna Jen Mansell non se lo caga nessuno Thailandia per forza essere di più rover ma chi sei l'operaio cioè Tyler no listra contro opera cioè no dai sì è uguale ma vaffanucciullo infatti lo sospettavo che fosse uguale Boris Baker vabbè 9900 oddio spero che sì meno male siamo a 15 raga human trafficking traffico umano oddio però 200.000 non è manco assai meno male meno male l'Italia l'Italia è più di 135.000 e dai c'è io di nuovo di più no perché ho sbagliato ho convinto che mi ricordavo di più di più ragazzi ultima volta come va va sono arrivato a 23 ieri oggi a 20 massimo vediamo come va va ma se sbaglio subito ripeto di nuovo questo punto HTML control ok che HTML in suo canale Floyd Mayweather questo è il pugile se non sbaglio più pagato al mondo per un incontro sicuramente cercatissimo infatti il Nepal non penso che sia come Mayweather mi piace infatti Sigmund Freud ok meno male Stone Mason ok prossimo forza hike porn 124 milioni 124 milioni di gente cerca porn 124 e poi mi metti pubertà ma come fai a mettermi a confronto pubertà con porn 124 milioni mi devi fare le somme e devi mettere solo Amazon mamma mia indian jones contro pubertà ma vaffanculo indian jones è più cercato della pubertà ok ed è un'azzarte oh però quale cos'è assurde nfl cosa sei il baseball la minchia 11 milioni mi sono buttato shield care siamo al 10 raga mi sa che noi ci fermiamo qua ok sport diretto penso un po' di più minchia 5 milioni personal assistant poca gente infatti mi ricordavo che questo ho sbagliato pure ieri starbucks sicuramente di più ok identità ok siamo a 15 nestle nestle ok jane jackson è uscito anche prima non mi ricordo più jane jackson uguale uguale jane jackson mi pare che era quella del sistema solare intel mi pare che era di più non mi ricordo si ma sto andando al mazzo rotto sto a 18 cazzo sudafrica ora so no voglio così però è da sentirti male ma vaffanculo 19 e vabbè ragazzi siamo arrivati a 20 mi sembra il massimo purtroppo non sono riuscito neanche a guagliare ieri che ho fatto 23 23 voi comunque peccato ragazzi magari se vi è piaciuto questo appuntamento vi riporterò un altro video fatelo sapere lasciate un like iscrivetevi al canale se ancora non è il defatto proponetemi anche altri giochi altre cose non so magari ditemi se volete vedere un po' The Witcher o Tecnomancer se vi sta piacendo va bene ragazzi io vi saluto ci vediamo domani ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.